Benvenuti sulla griglia di partenza più bella di tutto il mondiale di Formula 1, ossia questa a Monza, l'autodromo nazionale di Monza. C'è subito un grande ospite, il presidente Zicce, il grande capo della Mercedes. You are too dominant here in the championship. Siete dominati troppo, sia qui che nel campionato. Beh, è chiaro che ieri siamo stati effettivamente molto forti, ma le corsi in realtà vanno così, a volte non si sa quello che può accadere. Il risultato oggi potrebbe essere diverso rispetto a ieri, però certo, noi siamo fiduciosi che saranno una bella giornata. Allo start sarebbe molto interessante vedere cosa faranno le Ferrari con le super soft, con la mosca più morbida, se possono attaccare e superare voi che avete una gomma più dura. Certo, questa è una possibilità per la Ferrari per la partenza, in quanto le gomme gli danno sicuramente più trazione. Al contempo è chiaro che le nostre durano più a lungo, quindi potranno rimanere più fuori. E quindi coglieremo forse noi l'opportunità. Ovviamente il Presidente ci dice, mi ricorda l'altro lato della medaglia, se alla partenza in questi 600 metri la Ferrari potrà tentare di sorpassare, poi queste gomme dureranno di meno.